Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo svuota la spesa, Conad e Lidl. Inizio a farvi vedere qua dalla macchina, perché non la porterò su tutta, l'acqua che ho preso. Abbiamo preso 14 confezioni di acqua Conad. Al Conad abbiamo preso anche questi teneroni. La merenda, sono dischetti al prosciutto cotto, i crostini e poi c'è il succo. E poi questo qui invece dove c'è della parmareggio c'è il parmigiano, i grissini e sempre il succo. Erano in offerta tutte e due, quindi li abbiamo presi. Poi una maionese per i panini di Gabriele, che infatti è senza glutine. Poi due pacchi, ma mi sembrava di averne presi tre. Comunque due pacchi di pane integrale, tre pacchi di pane bianco e tre pacchi di pane, otto cereali e soia. Poi passiamo qui, abbiamo preso un po' di pasta, perché eravamo senza, cioè per loro, perché sapete che io adesso mando quella senza glutine. Abbiamo preso mezze penne rigate, orecchiette, fusilli, case recce, farfalline, gnocchetti sardi, fusilli, poi degli stickers, mi piacevano un sacco, sottilette, fettine con emmental e fettine con cheddar, sempre per i panini di Gabriele, ho controllato e sono senza glutine tutte e due. E poi sedanini rigati, penne rigate e pennette rigate. Poi emmental a fette, sempre per i panini di Gabriele, e il mix di formaggi del Conard, che è senza glutine. Ho preso un altro barattolo dello zucchero, per lo zucchero di canna, e poi gli ombrellini per le bambine, cerco di farveli vedere. Quello di Sabrina è questo qui, col manico nero, bordino arancione, poi tutto trasparente. Invece Giada l'ha preso così, di Frozen, viola. E invece Pia abbiamo preso questo qui sull'arancione, un rosso aranciato, di Mascia e Orso. Per quanto riguarda il Conard, questo è tutto, vi lascio lo scontrino, e adesso passiamo all'Igle. Allora, adesso iniziamo dall'Igle. Qui vi ho lanciato la sfida nel video che voi avete visto ieri, per, diciamo, indovinare quanto avevo risparmiato all'Igle. Ho comprato tantissime cose al 50%, quindi è una sfida così, solamente per vedere chi è che indovina. Comunque adesso vi faccio vedere tutto quello che ho comprato, e poi vi farò vedere lo scontrino, e vedrete anche quanto ho risparmiato. Allora, abbiamo preso questa uva da tavola senza semi, questa qui inizia, che c'è quella gialla e quella nera. Poi abbiamo preso quest'altra, che però, solamente penso uva bianca, sì. Poi c'è quest'altra uva da bianca da tavola senza semi. Poi le pere, e poi uva da tavola nera senza semi, due confezioni. Ci piace l'uva, si è capito? Poi il pambauletto bianco, che mi era uscito il talloncino per prenderlo gratis, e l'abbiamo preso questa volta che siamo andati. Poi, uno, due, tre, quattro confezioni di macinato difesa di tacchino, che come vedete era al 50%. Poi, sempre quattro salsicce di suino alla toscana, anche questo qua era al 50%. Tre fettine sottilissime difesa di tacchino, anche questo al 50%. Quattro diffusi di pollo, anche questi qui al 50%. Poi, sono due bocconcini difesa di tacchino al 50%. Poi, un'altra anguria di questa qui, si chiama perla nera, è quella senza semini dentro, non è malvagia, ma preferisco quella con i semini. Però era in offerta, allora l'abbiamo presa, abbiamo preso anche un melone giallo. Poi, due pacchi, così, di vongole, anche queste qua al 50%. Non levare niente, non levare niente. Queste qui sono da consumare entro l'11 di settembre. E oggi? Sì. Quindi, infatti, scusate, mi prendevo una mano, infatti le mangeremo stasera. Poi, due pacchi, che ci sono, di zucchine chiare. Due pacchi di cavolini di Bruxelles. Un pacco solo, perché sembra che lo mangiano tutti e non è più trovabile. Questo American Sandwich, quello integrale. Poi, due pacchi di cuori, due? Tre pacchi di cuori di iceberg. Un pacco di lattughino e un pacco di valeriana. Poi, aspettate, una, due, tre, quattro, cinque pacchi di chicchi di salsiccia paesana. Anche queste qua al 50%. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Di carpaccio di bovino adulto di scottona. Anche questo qui al 50%. Poi, cotto di tacchino con olive, l'aio nera e i peperoni, spalla cotta. Questi, più uno di questi, per i panini di Gabriele. L'altro è per fare le lasagne domanica e domenica. E poi, una confezione di mix orientale. E adesso mettiamo a posto queste cose qui e poi vi facciamo vedere il resto. Eccoci alle ultime cose. Allora, due pacchi di questa salsiccia loganega di suino arrotolata. Poi, tre pacchi di sovraccosce di pollo. Una confezione di hamburger di suino. Una confezione di macinato bovino adulto. Come vedete, queste cose qua sono al 50%. Poi, Lion Air Classico, salame ungherese, mortadella, bologna. Sempre per Gabriele. Qua c'era il coupon, quindi l'ho usato per prendere due confezioni di mortadella. Un pollo arrosto già pronto, che poi andremo a far scaldare nell'air frayer. Anche questo al 50%. Due pacchi di patatine grigliate. Quattro confezioni di hamburger di tacchino. Quattro confezioni di mini spiedini di pollo con suino. Tre confezioni di insalata di mare. Anche questa qua al 50%. Poi abbiamo preso 9 confezioni di panzerotti di pollo con specchia e provola. Non li abbiamo mai presi, li ho presi ai bambini per una cena. Erano scontati e costavano 99 centesimi. Poi abbiamo trovato un altro carpaccio. Una confezione di bracciole. Poi abbiamo preso la salsiccia di tacchino. Ne abbiamo prese quattro. Questa qui con suino e pollo. Poi due confezioni libri di croissant. Uno con crema pasticcera. E uno con la crema al cioccolato. Due confezioni. In realtà tre confezioni di plum cake con gocce di cioccolato. Ma poi una. Sabrina mi ha chiesto se la potevamo mettere nel carrello. Che raccoglie il cibo per le persone meno fortunate. Quindi l'abbiamo messo. Anche di questo abbiamo usato il coupon. Poi abbiamo preso quattro monster. Di queste qui verdi. A me non piacciono. Quindi non ci penso neanche bene. E poi due confezioni di carote. Ma adesso mettiamo a posto. E poi vi faccio vedere. Il pezzo forte di questa spesa. Qualcosa che da me. Non vi aspettereste mai. Allora questa è l'etichetta. E adesso vi faccio vedere. Che cosa abbiamo preso. Abbiamo preso questi due vasi. Simili ma non uguali. Con dentro le piantine grasse. E giusto stamattina nel video di Lucrezia. Loro parlavano di una signora che gli ha regalato appunto delle piante. E c'erano anche delle piante grasse. E quando le ho viste. Le ho viste in questa composizione. In questo vaso. Mi sono piaciute tantissimo. Sono piaciute anche alle bambine. Quindi abbiamo deciso di prenderle. In realtà abbiamo già anche pensato a dove metterle. Non ve lo dico. Ve lo farò poi vedere. In un video sistemeremo tanto la voglia qui a sistemare. E le posizioneremo insieme. E così poi ci direte se vi piacciono. Ma adesso da voi ho bisogno di un altro consiglio. Allora nell'etichetta che c'era sopra con il prezzo. Le abbiamo pagate 4,99 l'una. Ma c'è anche il vaso. Quindi secondo me c'è un vaso di vetro che poi comunque ti rimane. Quindi secondo me va benissimo come prezzo. Però c'è scritto di annaffiarle poco. E ok. Ma questo poco. Che cosa vuol dire? Una volta a settimana. Quando la terra è asciutta. Anche perché le mani lì dentro. Non so. Qualcuna ha le spine. Una volta a settimana. Devo guardare io. Perché ovviamente da sotto è chiuso. Perché è un vaso di vetro. Quindi dovrò mettere l'acqua qui. Come la devo mettere? L'acqua può andare a finire anche sopra le piante. Mentre la metto. Oppure. Devo. Insomma. Devo metterla. In qualche altra maniera. Devo stare attenta a non colpire. Là si è già staccata una foglia. Se vedete. Laggiù. È vero. La vedo anch'io. Però comunque. Sono molto carine. Ci sono piaciute. Allora ci siamo decise a prenderle. Fatemi sapere sotto nei commenti. se come vanno trattate. Diciamo. Ecco. Perché non vorrei ucciderle. Se fosse possibile. Comunque. La spesa è finita. Adesso vi lascio lo scontrino. E vi svelerò quanto ho risparmiato su questa spesa. comprando la carne anche al 50%. Che ovviamente. Avendo scadenza breve. Io andrò a mettere nel freezer. E poi consumeremo strada facendo. E niente. Con questa bellissima immagine. Io vi saluto. Vi ringrazio. Se avete guardato. Questo video. Fino a qua. Lanciamo un hashtag. Hashtag. Polliceverde. Si. Hashtag. Polliceverde. E. Io vi mando un bacione. E. Noi ci vediamo domani. Con un nuovo video. Ciao. 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 1, 2, 3, come on 1, 2, 3, come on Come on, come on 1, 2, 3, come on Ha!